Il film di questa sera è arrivato mio fratello con Renato Pozzetto, è scritto e diretto da due grandi maestri della comicità italiana, Castellano Epifolo. Pipolo, il cui vero nome era Giuseppe Moccia, è morto domenica scorsa a Roma all'età di 75 anni. La Sette vorrebbe dedicargli affettuosamente il film di questa sera e ricordare a voi spettatori che lunedì manderà in onda Il Federale, diretto da Luciano e Salce, scritto appunto da Castellano Epifolo e interpretato da Ugo Tognazzi. Il Federale sarà preceduto da una puntata della Valigia dei Sogni, dedicata al film, in cui potrete ascoltare l'intervista, l'ultima intervista, che Pipolo ci ha concesso pochi giorni prima della sua scomparsa. Quando non puoi lavarti i denti c'è Degami, denti più puliti, controllo alito peso. Acqua, olio e il pieno. Yes! Torni presto. Yes! Yes! Fate il pieno di cortesia. Apritela e come per magia, a colorio in bianco e nero, entrerete in un sogno e il fascino del grande schermo vi catturerà. Il cinema e le sue storie vi aspettano sulla Sette. La Valigia dei Sogni questa settimana presenta omaggio al maestro Pipolo, con Il Federale. Piano piano è nato il Federale. E in esclusiva, un'intervista allo sceneggiatore regista. Nelle commedie di costume. Buca con acqua! Lunedì, alle 20 e 30. Unieuro, decimo anniversario del Fuori Tutto. Fuori Tutto! A soli 899 euro, notebook HP Compa Capresario con tecnologia mobile Intel Centrino Duo. Fuori Tutto Unieuro. Non crederete ai vostri occhi! Saltare, giocare. Sono sempre io, Fiona. E ho sempre bisogno delle stesse cose, nutrimento e leggerezza. Latte, miele e pan di Spagna sono fatti per questo. Insieme diventano Kinder Fetta Latte. Kinder Fetta Latte. Più semplice di così. No! Scegli di cambiare. Passa a Vodafone con il tuo numero. Le tue ricariche raddoppiano. Vodafone. Night is now. Ma cosa sognano gli astronauti nel mio spazio? Gli spaghetti. Un buon bicchiere di vino. A proposito, com'è che bevi Castellino? Mi piace. Lo fanno degli amici della mia parte. Ha proprio il profumo del vino che faceva mio nonno. Andrea, ma questa sembra fatta per lo spazio. Castellino. La tradizione buona ha sposato il futuro. Non perdete storia e miniature dell'esercito italiano, una collezione esclusiva di bellissime fedeli riproduzioni metallo dipinte a mano in edicola da Hobby & Work in collaborazione con l'ufficio storico dell'esercito italiano. Riconoscere un profumo. Per mia figlia è un gioco. Per me è anche un mestiere. Il profumo del mio pesto Barilla parla di basilico fresco appena raccolto. È così che arrivò un sapore che si riconosce dal profumo. Miss. Da Conad. Operazione Bis. Su decine di prodotti. Miss. Prendi due. Paghi uno. Miss. Miss. Il campionato di La Sette Carta Più si gioca a casa tua a soli 99 euro. Il nome della mia pasta di riso? Pasta riso all'italiana. È riso al 100%. Perché è all'italiana? Perché è fatta come piace a noi. Che resti al dente. Ha il colore naturale del riso. Un nuovo primo piatto per mantenersi in forma con tutto il benessere del riso. Dr. Scotty! Come non ne mangio abbastanza? Ma se mangio solo le sue penne. Pasta riso all'italiana. Qui c'è riso scotti. Riso scotti. Vivere bene. Mangiando. Lazy, lazy, lazy afternoon. Taking time to be alone with you. Fin da piccolo i prodotti di marca ti accompagnano in ogni cosa che fai. Sono cresciuti con te e sono cambiati per te. Perché solo i prodotti di marca ti danno l'innovazione e la qualità che ti migliorano la vita. Un altro pannolino conveniente che assorbe poco. Facciamo noi un nuovo pannolino. Sì, super conveniente. Asciutto di notte e asciutto di giorno. E i Pampers super conveniente. E i Pampers sole e luna. Pampers sole e luna. Super conveniente. Fin dal primo giorno abbiamo capito quello che volevamo fare. Preparare cose buone con gli ingredienti e le ricette migliori. E poi che era ancora più bello dividerle con qualcuno. Con chi vorrebbe che la colazione durasse tutto il giorno. E con chi non sa resistere alle tentazioni. Con chi ha un vero amico vicino. E con chi l'ha appena trovato. Questo è quello che facciamo ogni giorno. Perché riusciate ancora a stupirvi di quante cose buone ci sono nel mondo di mulino bianco. E nella vostra vita. Mulino bianco. Scegli un mondo genuino. La sette d'occhio. Il tempo. Gli uomini. I fatti. La realtà raccontata per immagini. Nel prossimo appuntamento. L'homo sapiens. Noi siamo i loro figli. Il loro sapere si è tramandato per 50.000 generazioni. Per arrivare fino a noi. Cercheremo di svelare la vera storia della nostra grande famiglia. L'homo sapiens. La sette d'occhio. Domani sera. Alle 21.30. Non rinunciare al piacere della tavola. Chilo caldo fu un pasto abbondante. Riduce le calorie. Da Pulfarma in farmacia. Zimil. Il latte ad alta digeribilità. Da Parmalad. I wanna love you all over the place. Yeah, yeah. Weeey.